ciao sono andrea maggini e sabato 18 dicembre sarò a grosseto in piazza dante assieme alla mia band e ai ragazzi di amici per un grande concerto in favore di teletone sarà l'occasione per ritrovarci salutarci e per dare fattivamente una mano a tutte quelle persone che hanno realmente bisogno di noi ed allora vi aspetto in piazza ciao grazie